Ciao a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Naghino e siamo accompagnati Snitex e Rick Ciao ragazzi Luca oggi non è proprio un'ottima forma ma ci pensero io a intrattenervi come si deve Grazie Rick Spiego un attimo il perché Snitex è così ragazzi Purtroppo Snitex, non so quando pubblicherò questo video Ma ultimamente Snitex ha fatto uscire la sua serie di Minecraft La Banana Craft che vi invito tutti quanti andare a guardare Perché la serie è più schifosa del mondo però è bella Allora innanzitutto non è una serie ma è una puntata pilota Una puntata pilota Usiamo i termini corretti Quindi se piace l'avorto però ogni puntata sarà diversa, sarà mai sempre uguale Mamma mia quindi tu sei veramente uno youtuber che crea contenuti innovativi E poi se permetti non è una serie uncut Il che è già una novità nel mondo di Minecraft Italia ok Guarda io non pensavo si potesse fare anche su Minecraft Allora comunque Me lo confermi quindi? Certo, certamente Comunque ragazzi prima di tutto diciamo che questa settimana non ho fatto uscire LOL perché non ho avuto tempo Però visto che mi avevate chiesto e rotto i gabasisi di comprare Overwatch E anche Snidex me li aveva scassati altamente Ho comprato Overwatch finalmente E quindi oggi cioè questa settimana perché Sto portando solo un video a settimana ultimamente Vi prendete Overwatch e vi siete zitti Giusto Snidex? Giusto Rick? Cos'è questa presa di potere qua? Eh basta allora ragazzi Va preso il potere in mano ogni tanto Volevo chiedere una cosa Snake Ma perché pubblicizzi soltanto la serie di Minecraft di Luca quando l'ho iniziata pure io? Cioè È vero! È vero E pensa che io ho anche fregato una battuta Rick E mi ha anche fregato una battuta Quella del chest opening con la cassa Allora mettiamo le cose in chiaro Non è Snidex che ha rubato la battuta Ma è Rick che l'ha rubata anche se ha portato il contenuto prima Perché Snidex ha più iscritti e basta Esatto è vero Allora Mamma mia grazie meno male Non c'è qualcuno che capisce raga Diciamo le cose come stanno perché basta Basta Chi porta contenuti di qualità va detto e basta ok? Guarda questo figlio di buona donna che non muore guardalo Sono morto Ma io ovviamente ragazzi ho preso l'unico champion Che sono in grado di utilizzare Perché insomma quando non si ha le mani è difficile Diciamo A bugiardo Non si sa niente Ah stai giocando Perché ho visto la guida di Masarone Ah grande Questo champion è fatto per me E infatti l'ho preso E infatti vedete sono già 2-0 Guarda se veramente Io invece ho preso il champion per i disagiati Ossia farà Cioè se non sai giocare Vedi per esempio io non so giocare Ah volo Esatto Vedi Oh volevi Guarda tutti che muoiono Guardali Abbiamo soltanto cose che fanno danno a dare Altrimenti non riusciremo a colpire nessuno Esatto No Di pochissimo Ragazzi purtroppo i non pre-made vanno schifo al cazzo Non è ancora perduta ragazzi È soltanto il round 1 Mazzate che grafica figa è accattivante Eh hai visto Possibile che un gioco sia fatto bene Secondo voi No 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 Ma perché questo mette una X sopra il mio stimino di Overwatch Stronzo Prendete la bomba Guardalo guardalo Dai ragazzi andiamo Fica Guardalo guardalo la Reinhard già che sta lì Tutto ciccio Sono già là dentro il campeonato Che neanche il Call of Duty Scusandosi campo Ci sto ci sto ci sto Oddio Oddio ho paura Io ho scertato qualcuno Ragazzi venite anche voi Io sto dietro la Reinhard a ucciderlo Ma io gli stavo sparando Ma perché questo si è fatto Ah Genji Wow Ninja Ninja X di Sasuke Naruto Oh cazzo Forse quella No Skype mi si sta prendo Ma perché Allora Allora Veramente si sta prendo Skype Ma sei serio Come si permette Chi mi ha detto da finire sì Mi si è fermato il chat Perché mi si è aperto Skype Mentre io te lo dico Abbiamo il nostro Il nostro Come cacchio si chiama Il nostro Reaper Il nostro Genji Che letteralmente hanno Uno l'autismo E uno due cromosomi in più Purtroppo Questa cosa ci ha impedito Di vincere Però Che peccato Rimedieremo alla prossima partita Assolutamente Cosa sta succedendo? Niente Ragazzi ho un baule d'argento Da aprire Lo faccio per voi Pronti? 50 d'oro Torre infernale Leggendaria Ah no Spirito comune Vabbè capita Mi disp Peccato C'eri quasi comunque Sì 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 No ma era proprio lì Dietro l'angolo La leggendaria L'avevo vista Ma senti un po' Sinidex Tu lo puoi fare questo Guardami Pronto? Io sì guarda Dove stai? Ecco Lo puoi fare guardami Ma lo posso fa? Guarda guarda Eh lo so Coglione Get fucking shreked Dead No mi sento veramente Orribile come personale Ti senti inutile Vabbè tranquillo Niente Ripremi ammazzato con due auto attack Eh io non riesco a shottare perché lui ce lo cura come un maledetto Dai ma però l'ho grabato e non gli ho fatto un cheazzo Eh io non ho un healer perché l'healer non ce l'abbiamo più perché l'healer ha deciso di prendere Genji Capito? Figlio di p***a Maledetto figlio di p***a Genji p***a Genji Cioè c'era l'healer ha peccato Genji Che fastidio porca p***a Fastidio May I ask why to genji and no support P***ing faggots Ma scusa come ho fatto io a tancare i più danni di tutti quanti Se l'ho preso per dieci secondi Per farti capire quanto fa schifo sto Genji Che non schiva un cazzo Capisci? Capisci quanto faceva schifo quel Genji Non ha schivato nulla di E Nulla Nulla Ok Tranquillo Ragazzi forse questo Questo champ mi piace di più E' più figo Guarda guarda come vuole fa la figa con sei torrette Ma che vuoi fa? Vabbè la ve lo sono spaccate sei di torrette No ma ragazzi attacchiamo E qua busta te piscio Ho eliminato Viva non ha più il mech Vabbè vabbè puoi anche non kickarmi tipo Puoi smetterla? Grande Ho usato la ultimate una cagata perché non l'ho mai usata e ho fatto schifo Ragazzi abbiamo fatto praticamente ace Oh oh c'è sta Genji dietro C'è sta Genji dietro che mi ha shottato Sto pezzo di culo Purtroppo Genji in ultimate è un po' imprendibile Ah si è vero Sono veramente euforico da quel Genji Veramente E' un Genji di sopra che ci spara Simpaticissimo Oh ma questo? E' Meguro L'ho Insomene Ciao Ho cercato di uccidere tutti però non ce la farò mai Ma stai ultando? Si Noi ho inciso solo uno Perché gli altri si sono messi dietro all'edificio Perché mi fa più danni di me? Ho capito come funziona la ultimate E' una gran figata Vieni vieni che sono qui Ah ah coglione Stai fortissimo Stai fortissimo Stai Ok ce l'ho ulti Ti vediamo un attimo Chi è questo amico bello? Uuuuh cc2 E' stato difficile E' difficilissimo ragazzi E' una cosa veramente complicata Ti puoi morire? Grande sarebbe fantastico Guarda Renardo Io riesco a capire come si faccia a fare le kill Vraimenti Guarda Troppo complicato Oh merci Merci Sei morta puttana Oh Yujin No 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 Pezzo di merda Pezzo di merda Te deve morire la famiglia Coglione Gli è morta la famiglia? Si Ma io stavo I son fire Sto 16-3 Vabbè che conta anche gli assis Però è bellissimo Eeeh Vabbè mi ha sciolto What the fuck Ti sei divertito? Ma no Come no? Come no? Ma non è divertente Cazzate Ma come no? Impossibile Ti gusti veramente strani Devo dire E due genji No mi ha stordito Mi ha annullato la ultimate Muori Lo uscirete? No 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 Ok non ci sono Merci Vieni qua Oh Ci siamo Yeah Stiamo vincendo Siamo troppo belli e bravi Belli e bravi E anche molto abile Si 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 Chiaramente Vai Yeah Guarda Guarda Poi va a cazzo duro Tutti quattro Finalmente Vornatemi a casa vostra Wow Ma è difficilissimo Fare le play of the game Con Giangabè Chissà come l'avrà fatta L'ho fatta senza ulti Eeeh In play senza ulti Guardalo Vabbè però Si lasciavano L'autissimo Nel popò Comunque ragazzi Sperando che questo video Vi sia piaciuto Non so Cosa ne uscirà di preciso fuori Però Sarà stato divertente Spero No ci vediamo al prossimo video Bella Ciao No